Ciao a tutti, io sono Svideio e Brostas. Andiamo, 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 andiamo qua, giochiano. Ah, mia robita, ma io sono... No, 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 no Vediamo ad avere... se vedrete qua car, car, a scurit ceva no, fama, famale a scuritato c'è un cattolino come si trova l'illuminazione? nooo, muoio! ti metterla muoio! nooo, sono morto! però non si può fermo, boh! non sono morto due coppe meglio giudito non super, sono morto socket non sono morto, ma che vuoi sempre? ahahah stavamo mettere voglio bullo perché sa ne che bullo l'incontro mi sembra di la spiaggia signi voglia bollett fortuna carlo su scuola sicuramente esponenti a me una volta ho usato l'arma non so niente no non bo ancora la vita no oh 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 va a me no 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 carl tu tu bravo carl no no, questa persona c'è un boccio tanto uso boccio mi piace ci uscli la boccio non, c'è un trascente a io, pascca, pascca pascca, pascca pascca, pascca si ha vinto cinque gemme si dai spero finiremo si 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 se si 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 oh ragazzo è una bella cosa a fare genio stegomi genio portiamo in bar oh scappa la rosa questo è la parte che finisco il video biglietto usate ...dentere, non troppo. ...double, double, then. Ciao!